Il progetto per il parcheggio nell'area ex Ticosa arriverà entro Natale a dettare i tempi al sindaco di Como Alessandro Rapinese. Per il mese di dicembre vorrei far passare in consiglio comunale il progetto. In questi giorni i tecnici comunali stanno svolgendo diversi sopralluoghi nell'area per valutare in maniera puntuale tutte le problematiche che quella zona presenta, aggiunta ancora il primo cittadino. Il progetto a cui lavora l'amministrazione comunale prevede la realizzazione di oltre mille posti auto, alcuni destinati alla sosta dei pullman turistici. Intanto proseguono anche le analisi sull'ultima porzione di terreno che resta da bonificare. Si tratta della cella 3, l'area che si trova dietro all'edificio della Santarella, l'ultima parte come detto di una bonifica infinita. Diversi i contatti e le riunioni di confronto tra comune di Como, Arpa, ATS e provincia. Al momento delle quattro soluzioni alternative all'intervento di risanamento ambientale della cella 3 evidenziate dallo studio di fattibilità tecnica e economica, soltanto una sembrerebbe quella individuata dall'amministrazione, ossia l'asportazione totale dell'intera porzione di terreno per azione utilizzata anche per l'area restante. È imprescindibile che si concluda la bonifica per realizzare il parcheggio. Questo ha infine aggiunto Rapinese, se si studia un bel progetto la città avrà problemi risolti in termini di mobilità per i prossimi 30-40 anni. Nel piano infatti sarà inclusa anche la riqualificazione della viabilità attorno all'area dell'ex Ticosa.